Torna dal 13 dicembre la nuova imperdibile stagione di Capo Cuoco, il talent show culinario di maggior successo al mondo. E tornano i tre inflessibili giudici Joe Bianchi, Bruno Barberi, Carlo Cricco, in esclusiva su Beta 1, ogni giovedì, alle 21.10, dal 13 dicembre. Nero veleno, quando le tue labbra hanno il colore della notte e il profumo è l'immagine della tua pelle. Nero veleno, eau de toilette et parfum. Nero veleno. Di Giorgio Aldani Gli zuccheri sono dappertutto. Dentofresh protegge i tuoi denti, li rafforza e li difende attivamente dalle aggressioni della carie. Dentofresh Action Control. Per il tuo sorriso quotidiano.